Una delle band più famose al mondo, con uno dei frontman più caratteristici della storia Una persona che è essenziale per la band, ma allo stesso tempo la persona che ha sofferto di più la vita da rockstar e componente di una rock band Questa disciplina che poi in qualche modo usciva anche nel suo comportamento verso il pubblico Sicuramente non era uno che appariva scatenato sia nelle interviste ma anche sopra al palco Una produzione originale Next Step Studios su uno dei bassisti più uvili al mondo Un padre amorevole e un amico eccezionale John Deacon, il documentario, da mercoledì 25 settembre alle ore 16.30 Solo su Next Step Ciao Grazie a tutti.